come vuoi domani domani voglio sedermi tranquillamente e dare l'altra volta ti ricordi il consiglio che diedi no allora l'ultimo consiglio codato va l'ultimo consiglio codato è stato ricordi paolo arrendetevi però siccome non posso continuare tutte le volte col solito tra il refre allora io mi sono inventato un'altra cosa sono andato in farmacia e mi hanno detto addirittura me l'ha detto la mia dottoressa che guarda che in farmacia se vai c'è una pastiglia apposta per gli anti juventini io non ci credevo io non ci credevo sono andato a chiedere ma esiste una pastiglia apposta l'hanno fatta e il malox plus con presse masticabili per chirosica per chirosica gliel'hanno fatto e allora scendo io se volete ma allora io il mio consiglio è andate in farmacia prendete il malox plus per le vostre rosicate perché siete gravi e magari non ce la fate entro la fine del campionato non ce la fate oltre ad arrendervi prendete il malox plus superanti juve che vi fa bene bravo salutiamo ci arriviamo grazie grazie grazie